Cari fratelli e sorelle in Cristo, mi rivolgo a voi oggi con un cuore pesante e lo spirito inquieto, poiché le parole del nostro amato Papa risuonano nelle nostre anime con un'urgenza che non può essere ignorata. Con gli occhi fissi sulla Terra Santa, il luogo del nostro Redentore, il Santo Padre ha chiamato tutti noi a riflettere e ha lanciato un poderoso grido, basta! Il Papa porta nel suo cuore i tormenti dei tanti, lasciamo che il nostro cuore si commuova con il suo. Pensiamo ai piccoli, le cui innocenti risate sono soffocate dal fragore delle esplosioni. Agli anziani, i cui occhi, colmi di saggezza e di giorni passati, ora sono offuscati dal fumo e dalle lacrime. È un grido di giustizia che emerge dalle profondità dell'anima, un appello che riecheggia nei secoli. Per favore, non si versi altro sangue innocente, né in Terra Santa, né in Ucraina o in qualsiasi altro luogo. Basta, le guerre sono sempre una sconfitta. Sempre. Sì, fratelli e sorelle, è un comando divino che i principi del diritto umanitario siano onorati, soprattutto nella martoriata Gaza, dove il bisogno grida al cielo. È imperativo, è necessario, è urgente garantire corridoi umanitari e portare soccorso a tutta la popolazione. Non possiamo restare a guardare mentre nostri fratelli e sorelle soffrono. Dobbiamo essere le mani e i piedi di Cristo, portando il suo amore e la sua pace dove ora regna il caos. Quante vite sono state spezzate, quanti sogni distrutti sotto il peso del conflitto. Il sangue degli innocenti ha inzuppato la terra, terra che è stata santificata dalla presenza stessa di Gesù. Il nostro Papa implora, e con lui imploriamo, per favore, non si versi altro sangue innocente, né in Terra Santa, né in Ucraina o in qualsiasi altro luogo. Basta. Basta con la violenza. Le guerre sono sempre una sconfitta. Sempre. In questo momento di oscurità, fratelli e sorelle, la preghiera diventa la nostra luce. È la forza mite e santa, un baluardo contro la forza diabolica dell'odio, del terrorismo e della guerra. Ogni credente è chiamato ad unirsi in solidarietà con la Chiesa in Terra Santa, alla preghiera e al digiuno. Piegare le nostre ginocchia in preghiera e umiliare i nostri corpi con il digiuno invierà un messaggio potente al cielo e sarà un segno di speranza sulla terra. E ora, alziamo i nostri cuori e le nostre mani verso la Madonna, rifugio dei peccatori e madre di tutti i popoli. Maria, stella del mattino, intercedi per noi. Prega per la pace in Terra Santa. Prega per la fine delle guerre e delle sofferenze. Porta i nostri desideri di pace al tuo Figlio, affinché possiamo vedere il giorno in cui trasformeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, né si addestreranno più per la guerra. Amen.